Posso io non celebrarti o vita? Questa è una persona felice, questa è una persona in pace col mondo Vi avevamo detto che la seconda parte di Bruno Mattina oggi... Questa chi, scusa, eh, se sentite la roba... Era per creare un po' di sassi... Prende, prende... La seconda parte di Bruno Mattina oggi sarebbe stata eccezionale a causa della presenza di Giovanotti di Lorenzo Buongiorno, benvenuto... Buongiorno a te, buongiorno a tutti E che quando dicono questo è uno in pace col mondo, io già non mi sento in pace col mondo Appena tu hai detto questa frase già io vorrei litigare Stavi male, ecco, no, no, vabbè No, perché poi sei sempre sorridente, positivo, però anche tu ti arrabbi No, certo, no, ma poi io sono sorridente per reazione, nel senso che ho un modo per affrontare le cose Ma non è detto che siano le cose a farmi sorridere, sono io a sorridere, a tendere a sorridere alle cose Ma di per sé le cose a volte mi fanno sorridere, a volte mi fanno incazzare Sì, anche perché sorridere sempre, insomma, sarebbe un bel guaio No, però è meglio sorridere sempre che essere sempre ingrugniti, insomma, no? Giusto, però sono d'accordo Sarebbe meglio la via di mezzo, che io non frequento in genere No, tendo, però poi se tu chiedi a chi vive con me, insomma, io poi dal momento in cui mi spengo Mi accendo, poi mi spengo, e quando mi spengo sono spento Sono così, come un Tamagotchi scarico, è presente come quelli che erano negli anni 90 Modernariato, insomma Esatto, sa di cosa sto parlando Allora, io ho in mano il tuo vinile, ci sei tu, Giovanotti o Vita E non c'è più il nome Lorenzo Eri pronto a un ritorno alle origini, diciamo così, da questo punto di vista Lorenzo si può rinunciare È capitato un po' per caso, come quasi tutto Cioè, un po' troppo, no? E quindi Giovanotti è un modo per metterci un piccolo, così, un marchio che lo distanzi un po' da Lorenzo Perché poi dentro in realtà trovi più Lorenzo che Giovanotti Anche perché questo Giovanotti a te ti è stato simpatico fin da subito, insomma, no? Da subito, sì Tornando indietro Io ho un bel rapporto con le mie cose passate, anche con quelle più imbarazzanti In realtà Qual è la più imbarazzante, confesso? Ma non lo so, mi ricordo feci una sigla di un telefilm sui militari Che la feci in cambio di una settimana di licenza Ah sì? Stavo per dirlo, per fare il cartino, invece davvero No, no, la feci in cambio di quello, per cui siccome mi interessava più la settimana di licenza Che non di fare il pezzo, il pezzo lo facevamo in mezza giornata E devo dire che si sente, insomma Cioè che non è Ma non rimpiangi neanche quello, non lo rinnevi No, ma poi sai, non bisogna rimpiangere niente Le cose si passano attraverso tutte le esperienze, tutte le cose più assurde, più belle No, poi rimpianti, a me rimpianti Poi, chiaro che se uno dice che dovessi ricominciare da capo Oggi so più cose, per cui forse certe cose non le farei Ma invece mi sono servite Vedi quel Giovanotti che hai scritto lì davanti Giovanotti Giovanotti Giovanotti, che è un parente, no? Lo spieghiamo per chi ci ascolta È l'origine, no? No, ce l'ho sul giubbotto Esatto Ho un giubbotto di jeans con ricamato Giovanotti Giovanotti, come il nome di un italo-americano, no? Proprio tipo Joseph Vanotti Bello, ci piace Avevi scelto questo come nome d'arte E poi fu sbagliata la locandina E venne fuori Giovanotti Non era neanche un nome d'arte Era il nome col quale io firmavo le cassette A volte che facevo in discoteca Perché si vendevano la SIA E non si doveva accorgere di chi erano Perché se no ti facevano la multa Ecco, vedi? E quindi si firmavano con dei nomi finti, no? C'era un trucco Sì, all'inizio le firmavo con Lorenzo Poi dopo uno mi ha detto Ma guarda che poi ti beccano Ti vengono a fare la multa Metti un nome finto E io mi inventai sto Giovanotti Perché all'epoca c'era Nella disco music C'era uno che si chiamava Joe Yellow Poi c'era un altro che era Denaro Poi c'erano tutti questi nomi un po' E tu Giovanotti, perfetto E io mi inventai sta roba E te lo sei tenuto nel tempo No, poi è cambiato Perché in realtà Quando poi ho fatto un mio primo disco Il mio primo singolo che feci Parai al telefono con un grafico Di quella casa discografica Si chiamava Full Time E mi disse Ma com'è il nome? E gli ho scritto Giovanotti Ma Giovanotti come ragazzi No, no, Giovanotti con la dilunga Scrivi Giovanotti Giovanotti E lui capì tutto attaccato E me lo rimandò Che ho scritto tutto attaccato E io guardando la prova di copertina Dissi Siccome non c'era il computer all'epoca Per cui era un definitivo quasi Dissi ma no, no Vai teniamolo così Che mi piace di più Anzi Questo errore qua È un segno Senti Hai detto che c'è un sacco di Lorenzo Dentro questo disco E ascoltandolo Non sia che questa sensazione Molto intimista Molto profondo Molto essenziale Un'essenzialità Che hai scoperto Diciamo così Grazie a una collaborazione Che potremmo definire Più che eccellente Sì Deve una collaborazione storica Per quanto riguarda La mia vita Oserei dire Anche per quanto riguarda La musica italiana Perché Perché Rick Rubin Il produttore di questo disco Ha prodotto il disco Di un cantante italiano Che sono io È la prima volta Che produce un disco Non cantato in inglese È la prima volta Che produce un disco Non di un americano O di un inglese Quindi insomma È una grande cosa Per me Personalmente È una grande cosa Ma è un evento Infatti è stato vissuto Così anche dai media Spesso si parla più Del produttore Che del cantante In questo disco Ma perché Questa cosa Non mi preoccupa Anzi È la verità Questo disco È prodotto da Rick Rubin È un evento eccezionale Rick Rubin È il più grande produttore Della storia Della musica Rock Rap Hip hop Parliamo di un Di un gigante Insomma È come se Se un attore italiano Fosse protagonista Del nuovo film Di Spielberg Cioè nel senso Stiamo parlando Di una roba enorme Per gli appassionati Di musica Il fatto che sia io È una È una contingenza Ma è un fatto Fantastico Beh contingenza Insomma Non è scelto bene Nel senso che Sarà stato casuale Se avesse prodotto Il disco di Carboni Io sarei Per me sarebbe Sarei contento uguale Nel senso che Grazie a lei è il mio Quindi sono più contento Ciao Luca Ti vogliamo bene Ma è andata così Sono più contento C'è tanto di te In questo disco E ti ho smesso di fare Lorenzo Sono Lorenzo Ed è incredibile Che con un produttore Così ingombrante Cioè scusa Si interrompo Ma un produttore Così ingombrante In realtà ha fatto Il disco Dove Più mio di tutti Cioè sembra un paradosso E c'è anche la parte romantica Ovviamente non poteva che essere così Tua parte romantica Lo dico perché in questo caso Ci ascoltiamo Chiaro di Luna Ah cavolo Mi fa piacere È meravigliosa quella canzone Yes Grazie Grazie Ce l'ascoltiamo E poi diciamo due cose Ok Allora ditemi la verità Ditemi la verità Se ascoltando questa canzone Non vi fate un quadretto E non è l'immagine più romantica Che uno possa immaginare Immagina davvero Due persone che si abbracciano E ballano il Chiaro di Luna Da soli In questa immensità di cose E poi il Chiaro di Luna Aiuta Insomma ha una storia lunga Di ispirazione musicale Dai romantici Dall'ottocento in poi Insomma il Chiaro di Luna Funziona Se tu sei con una ragazza Che può essere una Che hai conosciuto Anche due sere fa O anche due ore fa O anche vent'anni fa Il Chiaro di Luna Fa aiuta Luce perfetta È una luce complice Per un'atmosfera magica È un'ottima location È un bravo È un'ottima location Ci racconti Come è nata questa canzone Dove l'hai scritta E che cosa Se c'è un momento particolare Che ti ha ispirato Ma guarda È sempre molto Raccontare e nascere Delle canzoni Gli toglie un po' Di magia in realtà Perché scrivere le canzoni È in gran parte Un lavoro Un lavoro di disciplina Per quanto mi riguarda Però questa è stata La prima No? No la prima che ho scritto È stata Uvita Del disco La prima che abbiamo registrato È stata Paura di niente Questa qui in realtà L'ho scritta Di getto Ero con la chitarra E mi stavo facendo Questo giro armonico Che poi nelle strofe E ho scritto Il primo verso Perché Era successa una cosa No? Il fatto Io ero un po' nervoso Ero un po' nervoso E sono andato in cucina E E E E E mi ha detto una cosa Mi ha detto una cosa Che mi ha tolto Qualsiasi forma di nervosismo Cioè Sai quando Così Allora ho preso la chitarra E ho attaccato la frase No? Proverò a pensarti Quando mi sorridi La capacità che hai Di rasserenare No? Sono partito da lì E Perca miseria Perché non mi escono mai A me queste storie qua Ma senti che figure Farei io Escono a pochi Cioè quindi ho pensato Allora la prossima volta Che sarò nervoso Proverò di nuovo a pensare Anche se non ci sei Proverò a pensare Cioè ho pensato Ho avuto questa roba qua E poi da lì ho scritto Tutto il resto Delle strofe Comunque lei deve essere Il ritornello Il ritornello Faceva parte di un'altra canzone Invece Quello Non esiste Non esiste il paesaggio Più bello della tua schiena Faceva parte di un'altra canzone Dove avevo già le strofe Pensa un po' Quindi io ho detto No Per cui ho unito Le strofe di questa canzone qui Con il ritornello di un'altra Che poi l'ho buttata Ho tenuto solo il ritornello Ho fatto un mash up E è venuto fuori Chiaro di luna Io adesso vorrei avere Ma le canzoni sono strane Nascono sempre in maniera In maniera molto Francesca Tua compagna di una vita La tua lente era qua Compagna di una vita proprio Nel senso che Tra un po' saremo insieme Per più di metà della vita Per cui non è male Io vorrei averla qui Per chiederle come si reagisce Quando un uomo Ti dedica frasi come questa Ispirare l'arte Deve essere una cosa meravigliosa Per una donna Lei ci ha fatto la corazza Però secondo me Invece poi Visto da dentro Come dire Le cose sono più Normali Naturali Perché lei mi vede Che io divento mato Sulle canzoni Per cui Sono ossessionale Per cui Capito Viste da dentro Le cose Hanno sempre un'altra Secondo me La canzone Io la uso La Francesca Nel senso Sì Per me è proprio Ecco che abbiamo tolto Tutta la poesia La frase precedente Io utilizzo Quello che lei provoca in me Per scrivere qualcosa Che però Poi deve essere per altri Capito che intendo Cioè Poi la devono usare gli altri Perché io I miei dischi Mi li regalano Capito Mettetene come un par E comunque amore E comunque romanticismo No Sì Certo Ho detto quello Nel senso che io la uso La uso perché lei mi ispira Poi però Dico grazie Adesso Ok Adesso 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 ci faccio un pezzo Lorenzo Ci facciamo un mojito Intanto che va alla pubblicità Perché mi parli di mojito Adesso No la prima cosa Che mi è venuta Facciamo un caffè Un caffè Un latte Ma La prima volta che andavo Stato a Cuba Un sacco di volte E andavo alla botteghita del Medio Dove fanno sto mojito Pazzesco E io chiedevo Il mojito sin ron Cioè il mojito senza rum E loro mi guardavano Come se fossi uno Un passo Un uffo No no Italiani Italiani alzi Che ho morito con doppio rum E io chiedevo Il mojito senza rum E dicevo No ma che schifo Il mojito senza rum Sì ma dai Sono le 11 di mattina Non mi fa bere un mojito con rum E quindi ero l'unico Che lì dentro Però me lo facevano pagare A prezzo pieno Va bene vada per il caffè Ci ritroviamo tra pochissimo Dopo la pubblicità Con Giovanotti E ci ritroviamo con Con Giovanotti Radio Bruno Giornata speciale Il piacere di averti con noi Per parlare di questo disco nuovo Che è uscito Giovanotti Con tante belle cose dentro Anche se adesso abbiamo Appena ascoltato una canzone Che qualche tempo fa Un accenno alla radio D'altronde tu sei partito Dalla radio no? Sì I tuoi primi passi Che rapporto hai con le radio? L'ascolto in macchina sempre Anche a casa In realtà in cucina Ascoltiamo la radio Più che guardare la televisione Ah sì La mattina Sì la prima cosa che facciamo Quando scendiamo A far colazione Insomma Che noi abbiamo una casa A Cortona Che ha due piani Per cui La cucina è sotto E la colazione La facciamo sempre con la radio Poi in macchina Io sono uno smanettatore in macchina Per cui insomma Ti direi una bugia Se ti dicessi Che ascolto solo una radio Giro sempre andando a cercare i miei pezzi Che credo ci credo Cioè vado a cercare i miei pezzi No vado a cercare i pezzi Che mi piacciono Colazione con la moglie Con la figlia Ho visto qualche immagine di tua figlia Che sembra una ragazza molto normale Posso dirlo In un momento super social In cui tante figlie di Sono un pelo esibizionista E non c'è niente di male Ma no ma non c'è niente di male Tua figlia mi sembra Che stia un pochino in disparte In questo momento Che papà sei? Come ti definiresti? Eh questo dovresti chiederlo a lei Insomma io mi definirei Sono come Ogni papà è il meglio Che può essere Cioè ognuno fa del suo meglio Fa del proprio meglio Per cui Anch'io insomma faccio Però Non lo so come sono Ma la Teresa a me piace È una tipa È una tipa che mi piace Mi piace molto In realtà Lei ha un sacco di interessi Ha tutto un suo mondo interiore È forte Io sono un suo sostenitore Ma cosa ti ha detto? Scusami Cosa ti ha detto Quando sei partito E hai deciso di partire Per la Nuova Zelanda Ma è abituata Tu e la tua bicicletta Tu viaggi sempre Sì si è abituata Anzi è contenta Perché sa che io sono contento Per cui No no È abituata È abituata al fatto che io sono Cioè ammirazione È una preoccupazione Non mi frega assolutamente niente Perfetto Se dovessi Anche perché Sì è proprio easy Da questo punto di vista Anzi Sai come sono i ragazzini No? Cioè Ormai poi con questa roba Che abbiamo Come si chiamano FaceTime Tutti questi video È in contatto con te sempre È come se fossimo sempre insieme Io la sera ogni tanto La Nuova Zelanda Le chiamavo Le chiamavo col telefonino Loro si svegliavano Io andavo a dormire Perché ci sono 12 ore Il diffuso orario Per cui eravamo veramente invertiti Per cui Poi i ragazzini Non hanno Poi oggi i ragazzini Sono molto diversi Ma io pure Io devo dire che a me Quello che faceva mio padre Non me ne fregava niente Cioè nel senso Che ero contento Lo vedevo contento Per me andava Andava bene È tutto quel che serve Senti io in mano Perché ci sta guardando Ho il libro Esperimento Rivista Sbam Sbam È anche la scritta Che hai sul cappellino Sbam Sbam Inaltro traduci Sbam Se si può Non si può Non si può È intraducibile Qualcosa che sbatte No no Sbam è un colpo di fulmine È una specie di colpo di fulmine È uno shock Anche positivo Insomma Sbam è Wow Diciamo che fa parte Di quel tipo di esclamazione Lì Che cos'è questo libro Rivista Esperimento È una rivista letteraria Però poi la metà Di questa rivista letteraria È di 180 pagine Per cui insomma Un bel librone Quasi un elenco telefono Però metà è occupata Dal mio racconto Ed è esattamente Proprio il diaro di viaggio Della lavorazione del disco Per cui con tutto quello Che ribolliva dentro di me Con tutte le suggestioni Con tutto quello Che stavo vivendo L'esperienza proprio Giorno per giorno E il resto L'altra metà È invece occupata Da scrittori Poeti Fotografi Fumettisti Che hanno Ai quali abbiamo commissionato Dei pezzi Dei racconti E ci sono dei grandissimi nomi Alcuni di questi Li conoscevo personalmente Altri invece Siamo andati proprio A contattarli Perché ero un loro lettore Un loro fan Ed è venuta fuori Una cosa Della quale sono Molto orgoglioso Io Consiglio la lettura Al di là del mio pezzo Poi quello Deciderà il pubblico Ma la parte Proprio quella Scritta dagli autori La consiglio Merita Molto Merita Merita È molto bello È proprio È un bel progetto Che spero possa continuare Magari faremo anche Uno sbam numero due Infatti qua Per precauzione C'è scritto numero uno Bravo Ti sei messo avanti Volevo metterci numero zero Poi ho detto Ma no Mettiamo numero uno Partiamo già Partiamo già con il numero uno In modo che prevediamo Il numero due E il film invece? Il film è un documentario Un documentario proprio È un documentario Anche un po' tecnico Nel senso che È un occhio Che è rimasto con noi In studio Per tutte le settimane Di lavorazione Ha seguito proprio Rick Rubin al lavoro Io che cantavo Che le vicissitudini Le sorprese Le gioie Le preoccupazioni Tutto quello che è Il clima in studio E quindi si vede Si vede proprio Come nasce il disco Canzone per canzone Molto semplice È un documentario Per niente ammiccante Non è neanche È proprio un documentario vero Per appassionati di musica Bene Senti io ti odio avanti E sto guardando Il tuo viso Che vedo una volta Ogni due anni E non cambia nel tempo Non vedo Grazie Sei molto carino Non cambia Il tuo sì Devo dire Il tuo sì Sei sempre più bello Ma me l'aspettavo Sei sempre più bello Io vorrei sapere Il segreto Che cos'è che ti mantiene Così giovane e bello Fammelo dire Ti ringrazio Questo non lo so L'alimentazione La ginnastica Fai qualcosa di particolare Dillo Svelalo Dal punto di vista Diciamo fisico Dell'estetica Non faccio niente di particolare Niente Dal punto di vista Dello sport Faccio sport Poi tendo a Mi piace mangiare bene Non è che mangio bene Perché con sforzo Non faccio nessun sacchetto Non lo sono Però insomma Siccome mi piace star bene Perché faccio sport Mi piace andare in bici Chi va in bicicletta Chi è un ciclista Sa che in qualche modo Per rendere bene Per funzionare Bisogna seguire un po' Un regime alimentare Per lo meno Adesso che me lo dici Che lo guardo bene Cavolo Non ha neanche una rughetta Niente Neanche di espressione Infatti da così fastidio Anche un po' di famiglia La mia nonna Non aveva È morta a 90 anni E aveva Per cui quella è una roba di famiglia Poi boh Che ne so Fortuna Casualità Non lo so Ci ascoltiamo un'altra canzone Ci ascoltiamo un'altra canzone Che si chiama Le Canzoni Dal tuo ultimo album E ci ritroviamo Sempre una canzone Le Canzoni Un'altra canzone Da Ovita L'ultimo album Di Giovanotti Lorenzo Lorenzo Giovanotti Lorenzo Cherubini Comunque sempre lui è E qui con noi Lorenzo una cosa Tu hai detto Le canzoni non devono essere belle Devono essere delle stelle E far ballare la gente Sì Non è una regola Diciamo Inviolabile Possono essere anche belle Qualche volta Però non è E come dire Non bisogna necessariamente Guardare l'estetica Di una canzone No Guarda È una frase a effetto In qualche modo Nel senso che Le canzoni devono essere Prima di tutto Vive Devono essere vere Devono essere intense Come le stelle Devono essere Devono infondere energia Devono Tutta una serie di cose Insomma Per cui Sai che questo sitornello Mi è venuto fuori Mi sono uscite queste parole qua E poi non è che me le so spiegare Molto bene In realtà Perché È una licenza poetica Ma non so spiegare bene Neanche che cos'è la bellezza in sé Certo Anche perché comunque Dal momento in cui Nell'arte È arrivato I primi del novecento Insomma L'astrattismo Il Duchamp Tutta quella roba lì Il concetto di bellezza Cambia sempre Certo Il concetto di bellezza L'arte non è più determinante Quello che importa È l'efficacia di una cosa L'idea La forza di un'idea Quanto Quanto un'opera d'arte Si possa Possa in qualche modo Emozionarti Farti riflettere Farti divertire Farti incazzare Tutta una serie di cose E la musica fa parte di questa cosa qua Cazzo Per cui Per questo Che sai Uno a volte dice Cazzo Come canta bene Eppure magari non ha successo Perché cantare bene Non significa niente Non è sufficiente Non esprime necessariamente Né personalità Né emozioni Non significa niente Nel senso Cantano tutti bene Io no Non è anch'io Ma infatti No ma nel senso che Basta che tu Se tu vai da un maestro di canto Dieci volte Canterai bene Miglioro Tutti possono farlo Me lo segno Da un santone Posso probabilmente riuscire È una tecnica È come imparare a suonare uno strumento È la stessa cosa Per cui a volte Io per esempio Sono il più bravo del mondo A suonare male la chitarra Che è Più bravo Sono meglio di Non ce n'è uno Un talento proprio straordinario Deve suonare male la chitarra Male però Va bene Ok Però anche suonarla male Ci vuole un Ci vuole un mestiere Chi invece suona bene Sono i musicisti Che ti accompagneranno in tour Lorenzo Tour 2018 Rassicuriamo tutti Insomma loro sono bravi E dici qualcosa di più Di questo tour Anche lì ti rivia Come ti ha insegnato a fare Rubin Guarda Lì Da un certo punto di vista Sì Nel senso che I pezzi saranno Lo spirito dei pezzi Sarà meno costruito I pezzi saranno più d'impatto Per cui anche tutto il mio repertorio Storico Diciamo Di canzoni Sarà più Io uso una parola Che non significa niente Ma dentro la mia testa Significa molto Che è rock and roll Ovvero Rock and roll vuol dire Salire sul palco e suonare Senza avere molte sequenze Di computer Senza avere molte Molte strati sonori Ma ritmica Gitarre Fiati Pastiere Elementi Elementi essenziali Però poi le canzoni Sono quelle lì Per cui nel concerto Si ballerà moltissimo Anzi Si balla più del solito Pur avendo fatto un disco Più del solito Io sono stato ai tuoi concerti Si balla anche mentre si esce Qua si balla di brutto Di brutto Ma perché ormai il concerto è rimasto una delle poche esperienze fisiche che noi possiamo vivere nel mondo dell'entertainment C'è un'esperienza in cui tu prendi la macchina Vai lì Fai la fila Magari fuori fa freddo Entri dentro Per cui l'esperienza deve essere Per me molto D'impatto fisico Quindi il concerto sarà così Poi ci saranno anche i lenti Ci saranno le ballade Ci sarà tutto quello che serve Ma anche il passato Quindi lo reinventi un po' Si Non tanto A me non piace molto Per esempio Quegli cantanti che cambiano le melodie Anche a me disorienta un po' Si si Non mi piace Io voglio che tu riconosca Devi riconoscere le cose che ti piacciono Perché poi le canzoni sono del pubblico Non sono più mie una volta uscita Per cui io stesso Quando vado a un concerto di un artista Non mi piace quando mi sento tradito nelle canzoni che amo in particolare Anzi quindi ritroveranno esattamente quelle cose lì I cambiamenti che ci saranno Non saranno percepibili immediatamente Servono a noi Ma servono per far arrivare ancora di più il pezzo Quindi Però in realtà io sono molto fedele Alle versioni originali delle mie canzoni Hai creato direi una più che discreta aspettativa Grazie Le parole con le quali hai annunciato il tour Tra l'altro lo sottolineo una volta di più E quindi c'è da aspettarsi qualcosa Sì sì no Ma io penso che sarà figo Soleremo fino a consumarci qui Vedi che mi sto allenando Ci stiamo mettendo in Di come si dice D'impegno Come sempre Poi qui viene ai miei concerti Insomma lo sa che noi ci spendiamo Un sacco di energia Grazie Grazie Lorenzo È stato un piacere Forza Radio Bruno Vi voglio bene E bello ritrovarti E bocca al lupo Ciao 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 Ciao